Buongiorno a tutti, benvenuti in BEC TV Online. Oggi parleremo di crema balsamo CRB. L'acronimo CRB sta per crema rigenerante balsamica. Infatti questo prodotto è stato studiato, concepito per rigenerare l'epidermide favorendo il turnover cellulare. Un'altra funzione di questa crema è quella di lenire le piccole lesioni cutanee grazie al potere lenitivo e cicatrizzante di alcuni ingredienti inseriti in formulazione. CRB è stata la prima crema prodotta nei laboratori BEC. Non a caso una riproduzione in formato ridotto nell'inconfondibile packaging blu è stato scelto come gadget commemorativo per festeggiare i 40 anni dalla fondazione dell'azienda. CRB contiene più del 99% di ingredienti naturali, tra i quali spiccano grassi vegetali eudermici come l'olio di avocado, proteine idrolizzate del grano o poligriceridi vegetali. Tutti questi ingredienti conferiscono una spiccata azione emolliente. L'azione lenitiva di CRB è invece sostenuta da alcuni estratti vegetali come l'ippocastano e la malva e da oli essenziali tra i quali spicca l'olio di camomilla matricaria o camomilla blu. Questo olio essenziale è ricchissimo di un componente molto pregiato, il camazulene, che oltre a conferire la caratteristica colorazione blu alla nostra CRB, svolge anche una profonda azione antiossidante nei confronti dei fibroblasti, ovvero le cellule del derma preposte alla sintesi di elastina e collagene, che quindi conferiscono alla nostra pelle tono ed elasticità. CRB è una crema particolarmente adatta per un uso quotidiano su pelli impure, acneiche e reattive, ma può essere impiegata anche all'occorrenza su eritemi e irritazioni. E ricordati che per qualsiasi informazione i nostri esperti sono sempre disponibili. Noi ci vediamo sempre qui lunedì su BIC TV online.